Un diffuso stato di malessere e condizioni di lavoro allarmanti. Per questo motivo l'Assemblea dei lavoratori IRCS Piemonte Neurolesi, iscritti alla CISL Funzione Pubblica di Messina, ha votato all'unanimità lo stato di agitazione del personale. I punti critici per il sindacato sono diversi e riguardano l'immediata definizione delle procedure di stabilizzazione, la proroga di tutti i contratti a tempo determinato e scadenza, la definizione delle selezioni per incarichi di sostituzione a vario titolo e per diversi profili professionali e l'accelera in missione in servizio del personale necessario a sopperire la gravissima carenza di risorse umane nelle unità operative, l'equa ripartizione dei carichi di lavoro con adeguamento dell'organizzazione e la specifica identificazione dell'attività da svolgere, intra ed extra reparto, lo smaltimento delle ore in esubero del personale con proposta di eventuale remunerazione economica. Sul piatto anche l'immediata ricollocazione del personale OSS ed infermieristico in assenza di prescrizione e limitazione degli ambulatori antistanti il presidio Piemonte e reparti carenti di queste figure professionali, la riqualificazione del personale, il completamento delle procedure finalizzate all'attribuzione di incarichi professionali, così come da regolamento aziendale e la revoca di tutte le disposizioni di servizio operate in difformità del regolamento aziendale. Trascorsi dieci giorni senza alcuna fattiva risoluzione delle numerose criticità rappresentate ai vertici dell'azienda, ha evidenziato il segretario generale della CISL e Funzione Pubblica Giovanna Bicchieri, saremo obbligati a proclamare lo stato di agitazione del personale di IRCS Neurolesi, nonché ad avviare tutte le azioni sindacali e proteste previste dalla legge.